Che cosa ne pensa del Ponte Garibaldi? Che è una vergogna che ancora dopo sette mesi è così, divide la città in due. È proprio una vergogna dopo sette mesi che non si è fatto niente ancora. Insomma lei è molto arrabbiata. Sì, è come tutti. A Senigallia la gente è stanca e non ha più pazienza di attendere per la demolizione e la ricostruzione delle Ponte Garibaldi che chiuso dal giorno dell'alluvione paralizza la viabilità del centro cittadino. Speriamo che lo sistemino perché così mi sembra un po' difficoltoso camminare, bisogna fare tutto il giro, speriamo bene. È giusto farlo anche perché è molto comodo anche per parecchia gente che magari devo fare il giro tutto attorno. L'importante è che vada a buon fine. Taglia tutta la città, per andare magari verso il Duomo bisogna fare il giro a tanti, infatti tanti sento che contestano. Intanto il vice commissario per l'emergenza alluvione illustra i tempi per il recupero della passerella che era stata utilizzata per realizzare il Ponte 2 Giugno. Verrà recuperata la passerella che era stata utilizzata per realizzare il Ponte 2 Giugno e questa passerella in questo momento è presso le officine Cimolai dove la stanno modificando per renderla idonea al transito ciclopedonale per aumentare il carico perché serviva soltanto a far passare i tubi. Poi i tubi delle infrastrutture passeranno dal vecchio Ponte Garibaldi sulla passerella e il Ponte Garibaldi verrà demolito. Nel frattempo parte la progettazione per realizzare il nuovo ponte e i tempi che sono venuti fuori dalla conferenza dei servizi per installare la passerella sono per la fine di maggio. Nonostante segnali di fiducia i senigallesi restano però perplessi sui tempi. Con i tempi delle amministrazioni comunali non penso però. La speranza è l'ultima moneda e spero di sì che riescano a stare con i tempi perché anche per noi dobbiamo fare tutto un giro a piedi molto più lungo. Tra sovrintendenze, ingegneri, regione, compagnia cantante si è perso del tempo. Ora le cose si sono sistemate quindi almeno per la stagione estiva che sia pronta a stare benedetta passerella.